Una biblioteca medica a tutti gli effetti a portata di smartphone. Anche la medicina abbraccia le nuove tecnologie e lo fa per dare uno strumento importante nelle mani dei camici bianchi e dunque dei pazienti. Questa mattina presso la sede provinciale dell'Ordine dei Medici di Salerno è stata presentata la biblioteca medica virtuale, uno strumento che conferisce ai professionisti una marcia in più grazie alla possibilità di aggiornarsi in tempo reale e dunque di applicare le nuove conoscenze alla pratica clinica giornaliera o alla ricerca. Al momento il servizio è riservato agli iscritti ma come ha sottolineato il presidente D'Angelo il sogno è di estenderlo anche agli studenti universitari. È un sistema di una potenzialità enorme in cui ci sono decine di migliaia di riviste messe a disposizione per le varie discipline e ci sono anche altre forme tipo la Cochrane che è abbastanza noto, la Medline, ci sono altre forme ancora a cui può accedere l'utilizzatore e tutto questo sarà possibile grazie a una password che l'Ordine metterà a disposizione dei propri iscritti, anzi di quelli che ovviamente la richiederanno e l'intenzione nostra, se la società ci darà la possibilità di farlo, di estendere l'utilizzo anche ai giovani medici dopo il corso di laurea, agli specializzanti e se addirittura il nostro sogno sarebbe anche quello di utilizzarlo per gli ultimi anni della facoltà di medicina.